Buonasera a tutte, cominciamo con la sedaka, che le parole che vengono dal cuore entrano nel cuore e che possiamo incorporare questo insegnamento, questo studio. Abbiamo appena passato il compleanno del Bal Shem e del Nura Zaken e viene detto che quando noi studiamo la Torah del Bal Shem, la spiegazione della Torah del Bal Shem, rientriamo nell'ombrello di protezione di queste grandissime tzadikim che Hashem ha mandato per aiutarci fondamentalmente, per capire meglio qual è la volontà di Hashem, qual è il nostro percorso in questo mondo, soprattutto nella nostra generazione che siamo quella che chiude, grazie a Dio, il Gelute e apre la Gheula, siamo quella generazione di passaggio tra uno e l'altro. E questo è proprio le porte di Rosh Hashanah e quindi quando noi arriviamo a Rosh Hashanah, avendo studiato Tania tutto l'anno, possiamo essere certi che a Rosh Hashanah facciamo parte di quello che è l'aurea di protezione della Nura Zaken e questo ci porta a Brakha. Ma sicuramente a livello più giornaliero ci aiuta a capire meglio determinati concetti della Torah, dell'ebrismo, delle mitzvot e questa lettera di questa sera, che dedico, questo limone lo dedico a mia nonna Sara Bat Yussef, oggi è la sua Ascara, che è stata una, chiamano così, una chabadnikite in borghese, e si occupava, nella città in cui viveva, di recuperare i bambini e i ragazzini, diciamo, un pochino allontanati, che magari non avevano una rutina ebraica, almeno per le due grandi feste che sono Urim e Chanukah. Con quello che aveva, quello che aveva lei dava per metterli insieme, quindi questo è stato un grande contributo che ha fatto, che ha dato alla sua comunità. Noi sappiamo sempre che mi dà, che negate mi dà, non c'è mai niente che viene perso. Tutto quello che noi facciamo, quello che noi gettiamo nel mare, le monetine che gettiamo nel mare, poi le ricopriamo. Non sappiamo come, non sappiamo quando, magari in generazioni precedenti, magari succedeva in generazioni successive. Nella nostra generazione, in cui il tempo, chiamiamolo così, si è compresso, va tutto molto veloce, i risultati si vedono anche nella nostra quotidianità. Sicuramente abbiamo beneficiato dei suoi skuyo, dei suoi meriti. Abbiamo passato bene a Rosh Hashanah, siamo in quello che vengono chiamati i Aserti Mechuvah, i giorni che intercorrono tra Rosh Hashanah e Yom Kippur. Per chi studia la Yom Yom, comincia a scorporarsi lo studio della parola Teshuvah, che cosa vuol dire Teshuvah. Per chi ha seguito un pochino le lezioni che abbiamo fatte insieme, di che cos'è la Teshuvah secondo la Duh Murazakel, possiamo già cominciare a capire di cosa si tratta. Quando parliamo di Teshuvah, si tratta proprio di Teshuvhe, tornare alla Hei, la Hei che è dentro di noi. Nel momento in cui ognuno di noi si riallinea con la sua vera essenza, automaticamente si avvicina con quello che sono, che è la sua vera funzione in questo mondo materiale. Stasera cominciamo a leggere, oggi abbiamo letto, la ventesima lettera. Abbiamo cominciato con la ventesima lettera e si racconta che questa ventesima lettera è stata data dall'Admurazakel venerdì, prima dell'Admurazakel è mancato il Muzzeh Shabbat 24 di Tevet, il venerdì precedente, l'Admurazakel ha tirato fuori due lettere, le ha date, non sappiamo se a suo figlio o a suo nipote, che aveva scritto recentemente. Una particolarità che sappiamo che conosciamo dagli scritti, da quello che è stato insegnato, è che col passare del tempo la percezione della spiritualità dell'Admurazakel è andata crescendo, fino ad arrivare all'apice nel momento in cui la sua Neshamah ha lasciato questo mondo materiale. Ovvero, nel momento in cui in un corpo materiale la Neshamah diventa predominante, la sensibilità, la percezione anche della materialità, diventa una percezione più spirituale rispetto a quello che noi vediamo nel nostro quotidiano. Noi siamo abituati a vedere un tavolo, una sedia, una porta. Nel momento in cui una persona fa un lavoro, un ebreo fa un lavoro spirituale più elevato, diamo così da spazio ad Ad Meshhamah di vedere e di sentire a un livello superiore. Queste anche sono le capacità dei Tzadikim, che vedono cose che noi non vediamo, sentono cose che noi non sentiamo. C'è la famosa storia del Rebbe Menachemende di Orodocher, questo famoso Rebbe, anche lui all'uno del Maghine di Meserich, che a sua volta veniva considerato dall'Admura Zaken il suo Rebbe, quando il Maghine di Meserich a un certo punto mancò, e che ha deciso di fare l'Aliya in Israele con un gruppo di Hasidim. Il famoso gruppo di Hasidim che l'Admura Zaken aveva preso su di sé l'impegno di mantenere con del Tzedakot continuo. Infatti la maggior parte di queste lettere in realtà parlano di Tzedakot. Si racconta che a un certo punto qualcuno suonò lo Shofar e pensando che fosse lo Shofar di Mashiach andarono dal loro Rebbe e direi Rebbe, Rebbe, stanno suonando lo Shofar, magari lo Shofar di Mashiach, perché nessuno doveva suonare lo Shofar in quel momento. E il Rebbe cosa fece? Aprì la finestra, non so se c'erano i vetri a lei, comunque si sporse fuori dalla porta di casa, dalla finestra, e anusò l'aria. Ritornò dentro la sua stanza e dice no, non è arrivata Mashiach. Allora i suoi Tamidim chiesero ma perché hai dovuto uscire da tua stanza per capire se questo suono lo Shofar era vero oppure no? Cioè perché dentro la mia stanza io vivo già in uno spirito di Gheulà. Devo per forza uscire per vedere qual è lo stato del mondo per capire se anche il resto del mondo è raggiunto questo livello. Vuol dire che anche a livello di Gheulà, a livello di riuscire ad arrivare dei livelli di redenzione personale, è un lavoro individuale e collettivo. In questa lettera 20 si parla della creazione e del fatto che è tutto creato da Kadosh Baruch Hu ed è tutto connesso a Kadosh Baruch Hu in una via diretta. Non si può dire che qualcosa è stato creato per una conseguenza. Andremo meglio a spiegare. Così come i mondi materiali e i mondi spirituali sono creati da Kadosh Baruch Hu ex nilo, dal niente. Noi sappiamo che Kadosh Baruch Hu crea il mondo e abbiamo studiato continuamente attraverso la parola. In ogni istante Kadosh Baruch Hu crea dal nulla il mondo in una continuità. Nel creato poi c'è la trasformazione. Io ho una cosa perché l'ho trasformato io ho il calore in casa perché ho bruciato della legna o della luce perché ho bruciato ho acceso una candela. Ma la materialità stessa la sua esistenza non deriva da qualcos'altro ma deriva dalla creazione ex nilo di Kadosh Baruch Hu. Questo significa in poche parole che la vicinanza la presenza di Kadosh Baruch Hu nei mondi materiali è altrettanto grande come nei mondi spirituali. Tutti e due sono dei mondi di creazione di Kadosh Baruch Hu. Anche la Neshamah è una creazione di Kadosh Baruch Hu che sale in Ganede. Anche Ganede è una creazione di Kadosh Baruch Hu. Semplicemente una in una dimensione spirituale e una in una dimensione materiale. La particolarità è che a un certo punto nella materialità Kadosh Baruch Hu immette la sua firma chiamiamola così una scintilla divina che fa parte dell'infinito. Ma dall'infinito non nasce il finito. Hashem crea la materialità dal nulla. Tutto questo in realtà si collega anche dei Shurim che sto seguendo più recentemente in cui si parla di come quando viene Maschia la dimensione di Elokut della dimensione divina sarà percepita più come la dimensione divina femminile e meno maschile perché la femminilità si concentra in questo mondo materiale che è Malkut e quindi quando si parla di Triatamettim la risoluzione dei morti significa che le Neshamot di questi corpi invece di rimanere in Gan Eden sia nel Gan Eden basso sia nel Gan Eden alto avranno vantaggio per un'elevazione spirituale a tornare in questo mondo materiale perché in questo mondo materiale la presenza divina sarà un livello superiore a quello di Gan Eden da qui capiamo perché quando i Hasidim dicono imparando anche dal Mura Zaker che diceva Hashami non voglio il tuo Gan Eden non voglio questo mondo io voglio te vuol dire che l'attaccamento a Kadosh Baruchu va al di là di quello che noi conosciamo come io faccio le Mizzotti in questo mondo così riesco a ricevere la Maba no lo scopo ultimativo in realtà è questo mondo materiale ed è per questo che noi tre volte al giorno nella Tefilah parliamo appunto di Triatametin del ritorno in questo mondo materiale ed è per questo anche che c'è Mavet c'è la morte perché il corpo ha bisogno anche il corpo deve purificarsi deve innalzarsi in modo da poter ricontenere una Neshamah e chiamiamo così ultimativa perfetta che non ha più bisogno di fare un determinato lavoro ma può tornare in un corpo e quindi raggiunge un livello spirituale altissimo la Neshamah torna in questo mondo varie volte se noi si dice che noi siamo l'ultima generazione quindi anche il Rebbe Yassafiz chiarisce che non ci sono più Gilguli non c'è una c'è da fare adesso non ci sono altri giri di giostra meglio farlo adesso quello che avevano da fare meglio farlo adesso ci scapita un'opportunità sotto il naso se siamo furbi e lo dico a me stessa principalmente cavalchiamo l'opportunità di fare una Mitzvah o di mettere a posto qualcosa perché stiamo giocando i giochi è finito è finito il percorso di ognuno di ricominciare da capo e soprattutto quando quando abbiamo quando sentiamo la necessità di fare tanto significa la nostra Neshama deve completare tante cose semplicemente tutto questo perché perché quando la Neshama che con tutte le sue sfaccettature torna e ritorna e ritorna e ritorna alla fine finisce un percorso c'è un sacco di storie del Balshento in cui spiega varie varie storie di Gilguli quando Neshama finisce il suo percorso non ha più bisogno di ritornare qua giù può rimanere in Gan Eden però ci dice la Torah che no anche nei vimi i profeti che a un certo punto ci sarà Tshatamettim perché la rivelazione divina in questo mondo sarà superiore allora nasce spontanea la domanda ci sembrava di aver capito che Akkadosh Baruch Hu irradia luce divina la quale attraverso le sefirote di ogni mondo si catapulta in questo mondo materiale possiamo provare a pensare una molla pensiamo a una molla il cui centro della molla così facciamo parte immaginiamo che è attaccato Akkadosh Baruch Hu quindi è il mondo della Tzilut la prima emanazione la prima scintilla e poi giù 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 fino ad arrivare a questo mondo materiale che si chiama il mondo della SIA c'è un collegamento diretto chiamo così per centro uno è il nucleo che piano piano si allarga in una dimensione più larga sappiamo che più si assali in Kedusha più è un punto unico mentre questo mondo materiale è fatto di infiniti dettagli c'è il tempo c'è lo spazio ma ci sono anche tanti dettagli quindi è tutto connesso però pensavamo che da una cosa nasce l'altra come un mondo crea un altro mondo il mondo della Tzilut crea il mondo della Bria fino a questo mondo materiale in questa letta che sono gli ultimi momenti dell'Admura Saker l'Admura Saker spiega che un mondo spirituale non crea un mondo materiale ma che Rosh Baruch Hu crea e se ci verrebbe da dire ma come fa l'infinito ad entrare nel finito se una cosa è infinita è infinita se una cosa è finita è finita noi quando pensiamo alla Karos Baruch Hu naturalmente pensiamo all'infinito non ci viene in mente di pensare a qualcosa di finito quando noi facciamo una mitzvah che è una cosa finita adesso ci stiamo preparando a Kipur dopo di che ci prepariamo a Sukkot dobbiamo costruire la Sukkot secondo dei dei canoni bisogna comprare un buon etrog un l'olab kasher insomma uno è una specie di limone l'altro è un ramo di palma cosa vuol dire? come faccio a vedere la elocut dentro queste mitzvot se io prendo i soldi e li metto in Seraka sono soldi invece di pagare un caffè li ho messi in Seraka qual è la connessione? dov'è la dimensione divina della materialità che è così importante tanto che tutto questo mondo è stato creato per far sì che noi facciamo le mitzvah c'è un grande mondo che è il palcoscenico per far sì che io faccia la mia mitzvah qualsiasi sia la mitzvah che io devo fare quindi quando un'altra cosa che viene insegnata quando si studia questa lettera numero 20 è quando il rebbe Rayaz rispiegò il suo talmidim questo concetto fu chiaro tutti i suoi chassidim cominciarono a percepire con più vicinanza più calore le mitzvot quelle proprie materiali perché se da una parte abbiamo gli obblighi del cuore e possiamo servire a conoscerlo un po' attraverso il pensiero il cuore la parola in realtà una delle cose più fondamentali è l'azione la mitzvah nell'azione e non possiamo sottovalutare l'azione così come non possiamo sottovalutare l'importanza del corpo di un ebreo il nostro corpo ci viene dato in affinamento e dobbiamo averne buona cura la duranza che infatti viene lascia questo mondo mozzè sciabat del 24 di tevet a piena un piccolo discorso storico in quel mentre la duranza che stava scappando da napoleone questa era l'invasione la campagna di russia di napoleone che a quel punto era l'imperatore napoleone e che aveva già conquistato praticamente tutta Europa che stava penetrando in russia la duranza che decise che era meglio per le comuni per l'ebreismo per la edishkaid per il livello dell'ebreismo mantenere lo stato attraverso sotto l'izzar per quanto non fossero molto gentili con le comunità ebraiche piuttosto che l'influenza napoleonica e quindi a livello spirituale fece una una lotta una campagna contro napoleone e infatti noi conosciamo dalla storia la disfatta di napoleone in russia è stata una tragedia umana in quel periodo l'admurazaken quindi scappava da napoleone che lo rincorreva che lo cercava che sapeva che c'era questo rabbino che li faceva che li remava contro e tutto questo peregrinare portò purtroppo l'admurazaken a lasciare questo mondo noi sappiamo anche che in realtà l'admurazaken doveva finire il suo percorso in questo mondo prima ma che sua figlia la rabbinita Voralea gli regalò degli anni e quindi la mamma di mancò giovane per regalare al suo padre degli anni in più in modo da poter completare il suo lavoro la sua diffusione della Torah la sua diffusione della 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 che è un gioiello che ci viene sciolto nell'acqua in modo da capire cosa Hashem vuole da noi se noi pensiamo a quello che andremo a studiare a leggere adesso Akrasporuku crea il mondo continuamente significa che in ogni istante Hashem ricrea mi ricrea ricrea il mondo in ogni istante vuol dire che in ogni istante Akrasporuku decide di ricreare il mondo e che tutto quello che io faccio in questo momento diventa parte integrante del mondo che viene creato nell'istante successivo questo significa che non si può parlare di destino il mondo ebraico è il di là del masal perché noi rientriamo in questa creazione ex nilo continuamente e quindi non c'è non si può parlare di una di un percorso predestinato predefinito ma in ogni state Akrasporuku ci permette di decidere questo è il libero arbitrio in cui in ogni istante c'è restart 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 e non dobbiamo mai imparo per me stessa in primis pensare di essere in un canale da cui non possiamo uscire quando un gruppo di donne si ritrovò ad Detroit la vigilia di Shabbat bloccata perché l'aereo non poteva partire per la neve chiamarono il Rebbe a 770 e cercando di tornare a casa da loro a New York e di siamo siamo bloccate qui il Rebbe rispose non c'è nessun blocco non si è mai bloccate a noi di decidere dove vogliamo andare e appunto passarono con il Shabbat per trovare un sacco di ebrei nell'aeroporto e quindi fecero la loro scelta all'aeroporto quindi ovunque noi ci troviamo in qualsiasi situazione ci Hashem ci mette lì evidentemente non siamo vittime ma siamo attori e questa lettra quando la capriamo bene ce lo fa capire in cui ogni istante crea il mondo ex nilo e dove la forza divina è presente nella materialità come nel Ghaned del più elevato che cosa deriva però da un mondo spirituale in giù l'essenza spirituale l'essenza spirituale è quella sì viene chiamato il passaggio cioè il passaggio del mondo della Silut al mondo della Bria al mondo della Yezira e della Esia ma questo è un passaggio chiamato così lo spirito della Neshama così come in Shamaim c'è alla fine del paragrafo parla proprio dell'immagine del bue questo questa crea la Neshama del bue ma non crea il bue materiale quindi da un punto di vita spirituale c'è un'istitut c'è una catena un percorso da dei mondi superiori a un mondo inferiore a livello spirituale a livello materiale c'è una creazione ex nilo quindi sia la materialità che la spiritualità sono direttamente legate a Krosporo Hu allo stesso modo il problema è che la materialità nasconde Hashem Olam Mia Elem Hashem si nasconde al tal punto che una persona può dire e ci sono tanti tanti personaggi famosi nella sala che hanno detto non solo io ho creato ma mi sono autocreato come dice il faraone non solo ho creato il nilo ma mi sono autocreato e in questa piccola dimensione in cui c'è un io molto predominante è questo stesso io che decide io voglio io penso io non posso quello stesso io che dobbiamo un attimino ogni tanto mettere da parte perché blocca il flusso di Akadosh Barokho questo è il concetto di Bitul che è un livello ancora superiore rispetto al concetto di Anava che studiamo nelle nelle Midot Hashem dice io e il creato siamo un unico non si può dire come si pensava prima prima di ricevere la Chassidut che Hashem ha creato il mondo poi Hashem rimane nel mondo il ionim nel mondo superiore e il mondo qui si arrangia Hashem è tutto e lo dice noi siamo un unico quindi le luci delle Sefirot che animano i Quilim i contenitori sono un unico da una parte c'è la Neshamah la luce spirituale da una parte c'è il contenitore materiale e più andiamo avanti più scopriamo che il contenitore materiale è tanto importante quanto la Neshamah al punto che al tempo di Mashiach sarà il corpo che darà vitalità alla Neshamah e non il contrario Hashem dice io e le cause effetto siamo un unico quando parliamo di cause effetto abbiamo cioè che c'è qualcosa ex nilo creazione ex nilo c'era il niente e Hashemah ha creato qualche cosa quindi nilo in realtà è il tutto di Akash Baruch e poi c'è causa effetto l'alunno è alunno perché è alunno di un di un di un di un di un tutto nel mondo è una causa in effetto è legato ma la causa ed effetto significa che l'origine e la fine sono legati e questo nel mondo fatto così ma l'esistenza stessa della materialità non ha una causa in effetto è creazione Perush quindi abbiamo queste due frasi dice io e l'emanazione che sono la vitalità siamo uno io e gli organi siamo uno quindi sia l'emanazione che il contenitore Perush è seferò d'atzilut si riconnette con le dieci seferò diatzilut ripartiamo da capo abbiamo quattro mondi l'atzilut che è l'emanazione da Karosh Baruch che però è già creazione ha già una dimensione chiamano così di finito è tantissimissimissimissimissimissimo ma è già una dimensione di creato rispetto a Karosh Baruch e dentro la dimensione diatzilut abbiamo la Chofma che è una scintilla abbiamo la Binah l'abbiamo Dat che sono le tre seferote intellettuali qui abbiamo le sette seferote emozionali che poi converge in Malchut diatzilut e di Malchut diatzilut nasce il mondo della Beria ma anche il mondo diatzilut che è un mondo spirituale è un mondo che ha già in sé una determinazione di limitatezza perché non è più il totto di Akadosh Baruch allora un alunno normale con la sottoscritta può dire come fa Akadosh Baruch che è infinito ad entrare nel finito sono due mondi separati o c'è il finito o c'è l'infinito e noi già sappiamo che non si può definire Akadosh Baruch solo dice Rambam quindi se non si può definire Akadosh Baruch non si può neanche definire le capacità di Akadosh Baruch quindi così come c'è l'infinito Hashem può essere nel finito non c'è nessuna limitatezza l'infinità di Akadosh Baruch non può essere limitata nel fatto di dire può essere o finito o infinito quindi Neshama è tutto il problema è che noi abbiamo una percezione diversa perché noi siamo finiti mentre la nostra Neshama è di un reame spirituale anche molto elevato ma rimane un reame di finitura di creato spirituale e dentro c'è la firma un DNA una scintilla che invece è Akadosh Baruch pure cruda quindi Akadosh Baruch sono le luci l'emanazione divina la luce divina mentre Garmoji sono i Chilim Garmoji sono ci viene in mente i gli strumenti i contenitori quindi i contenitori sono anche dei delle Sefirot ok ogni abbiamo detto che sono i Sefirot ogni Sefirah si anche noi siamo fatti di Sefirot ognuno di noi è una Sefirah che è predominante ma tutto chiamo così il meccanismo della creazione segoli Sefirot Masha ma crea per il mondo così Shikulam e Locut sono tutto divino non si può dire che qualcosa è più o è meno Masha Kenbe Bria Yitzra Siah quindi i mondi di Bria Yitzra e Assia che sono i mondi inferiori quando abbiamo Atzilut è la luce dopodiché c'è Bria il creato come si fa a mettere l'infinito dentro l'infinito di di recipienti infiniti il suo corpo finito io per spostarmi mi devo alzare e spostarmi quindi come facciamo mettere insieme le due cose Yusuf per darvi un esempio qualcosa che non è scritto qua ma che mi è molto aiutato a capire si dice che i Tzadikim molto spesso ha un accesso al mondo della Yitzra dunque c'è anche il Sefer di Avram Avino il mondo della Yitzra permette è un concentrato di questo mondo materiale però il tempo si restringe quindi quando quando un Tzadik ha accesso al mondo della Yitzra può vedere se non erro 15 anni avanti o indietro qualcosa del genere per questo ci sono ci sono Tzadikim che vedono che succede perché più vai avanti questo mondo del materiale è un mondo di dettagli dove tutto è come se fosse una fisarmonica che è totalmente aperta il mondo di Yitzra comincia un pochino a chiudersi è la stessa fisarmonica ma un pochino più concentrata il mondo della Bria è ancora più concentrata se ci sono domande posso anche fermare la registrazione perché so che è molto complesso ogni Sefirah dice la Dumurazaken ha una sua identità individuale ma ogni Sefirah ha comunque una dimensione finita per questo abbiamo detto che anche la Tzilut che è il mondo dell'emanazione cosa vuol dire il mondo dell'emanazione dove non ci sono come se fosse lanciassimo dei colori su una tela non ci sono dei disegni finiti non ci sono delle ombre delle luci sono delle macchie di colore questo fa che non ci sono dei limiti delle definizioni ma rimane comunque una macchia su una tela ha già una sua dimensione quindi anche la dimensione della anche della dimensione dell'Etsilut ha una una finitura non possiamo compararlo con l'infinito di creato così come il mondo spirituale è creato dal nulla e ha una dimensione spirituale estremamente unico con la croce barco tutto questo che sembra molto astratto mi viene a dire che quando io faccio la materialità in cui io vivo ha una presenza divina tale quale al ganeden superiore non posso dire vivere dicendo beh io vivo qua in basso e la presenza divina non c'è e quindi mi comporto come mi comporto fondamentalmente questa lettera che è molto complessa ci viene a dire che è tutto uno a uno quindi anche il fatto di vivere in questo mondo materiale è fine a vivere la materialità in questo mondo materiale perché qui è quello che devo fare e non astrarmi a un mondo spirituale completamente staccato dalla materialità noi sappiamo che la differenza dell'erberismo con le altre religioni soprattutto è il fatto che c'è un'integrazione della materialità con la spiritualità ed è questo il nostro lavoro di catalizzatore noi facciamo il preunion tra le due cose cosa che non viene fatta da Kjante quindi la mia la presenza divina in questa stanza in questo momento è esattamente uguale a quando Naneshama si trova nel Ganede più alto il problema è che io non lo percepisco il fatto che però io non lo percepisco non cambia il fatto che è presente in ogni singolo dettaglio e quindi molto in realtà molto vicino tutto il concetto di Elu di questi giorni in cui Asham si avvicina ancora di più di solito non ci si arriva molto facilmente sono presente ma tu non ci arrivi molto facilmente perché sennò sarebbe un gioco a scarte scoperte come giocare a poker con le carte scoperte non è un gioco ma in questo momento Asham si avvicina c'è l'opportunità di essere di essere più percettivi della presenza di Akarosh Barokou ma non si può dire io questo mondo lo vivo come lo vivo poi c'è Olamabha un mondo diverso no Davkan andiamo a imparare che in questo mondo materiale facciamo rettifichiamo qualcosa che nel mondo spirituale non si può rettificare perché solo in questo mondo materiale possiamo mettere insieme spiritualità e materialità tutto lo scopo della creazione di fare una casa per Asham in questo mondo materiale ovvero tirare giù tutta questa spiritualità che a priori non si integra con la materialità e metterla insieme perché io sono catalizzatore io posso metterla insieme e quando quindi quando faccio la bracha sull'acqua ho elevato quest'acqua a un livello superiore integrando i mondi spirituali che ha creato e i mondi materiali che ha creato per questo ci sono tante storie che dice questa persona è passata in quel bosco per trovare quella fonte d'acqua e fare la bracha insomma e allora no una persona un po' cinica può dire allora no tutto tutto il creato aspettava che quella persona passasse in quel bosco per trovare quella fonte d'acqua per fare la bracha perché lui ha avuto il merito di mettere insieme le due cose mondo spirituale e mondo materiale ricapitoliamo abbiamo il mondo della zilut che è il mondo dell'emanazione benché sia un mondo dell'emanazione quindi estremamente spirituale di livello spirituale elevatissimi tanto è che Moshe Rabbeino non arriva a comprendere a un livello più alto di nezza meatzilut Moshe Rabbeino profeta dei profeti perché è un livello altissimo e comincia ad essere troppo vicino ad Akarosh Barokou quindi noi non possiamo capirlo dice Moshe Rabbeino tu non puoi vedere il mio volto perché chi vede il mio volto non vive non si può mettere le due cose insieme quindi Moshe Rabbeino arriva fino a nezza che c'è l'emanazione ma dopo c'è il mondo dell'abria e il mondo dell'abria è il mondo del creato ex nilo yesh meain non è che il mondo è creato da da qualcos'altro Hashem crea il mondo e Hashem ricrea il mondo in ogni istante e in ogni istante ogni azione che noi facciamo fa parte del mondo successivo per questo mi dà che ne mi dà per questo anche che il valore di una di una mizvah non ha prezzo perché la luce infinita che noi portiamo in questo mondo materiale di unione chiamano così facciamo un'unione non è comparabile a nient'altro qualcosa di estremamente più estremamente infinito che che non può essere comprato con nessun con nessun denaro con niente qualcosa di estremamente superiore andiamo avanti questa è la mia parentesi per cercare di spiegare meglio quindi la presenza divina è presente nella creazione così come nell'infinito e non è una creazione di causa ed effetto l'allievo è l'allievo del suo maestro l'allievo prenderà l'impronta del suo maestro c'è sempre una relazione in questo mondo materiale di causa ed effetto ma non possiamo dire che il mondo è stato creato per una casa in effetto andiamo indietro non vorrei il concetto del big bang Hashem ha creato il mondo non è che c'è stato qualche cosa nell'universo che ha fatto sì che si è formato il mondo questo è fondamentalmente il concetto che va a cozzare con alcune discipline scientifiche che non sono dimostrate e arriva Einstein e spiega la relatività apre le porte a capire che non possiamo capire perché c'è la relatività non c'è una casa ed effetto la casa ed effetto nel nostro mondo l'energia quando si studia un po' di fisica l'energia che si trasforma ma non fa parte di quello che è la creazione della materialità quindi quello che scrive quindi quello che scrive il rabbi Moshe Cordovero spiega come funzionano le sefirot che da una sefirah diciamo la luce divina passa attraverso le sefirot che ogni sefirah ha una sua chiamo così una sua essenza una sua individualità così come è spiegato nello Zohar in Parashabarishit quindi dice il rabbi Moshe Cordovero l'evoluzione delle sefirot nelle sefirot stesse c'è un'evoluzione nelle sefirot ma il fatto di creare andiamo avanti scusate vado avanti col test scusatemi quindi le sefirot così come ogni mondo è strutturato in sefirot anche noi siamo strutturati in sefirot hanno una componente finita hanno una definizione ogni sefirah è chiamato così per sé e poi c'è il passaggio da una sefirah all'altra fino ad arrivare a Malkuth ma questo rimane nel reame dello spirituale e che passa nel reame del spirituale non fa la creazione perché perché le sefirot non sono in grado di creare non possiamo dire che un mondo ha creato l'altro abbiamo due ripeto abbiamo due tipologie abbiamo causa e effetto e abbiamo yesh meain meain vuol dire creazione dal nulla le sefirot non sono yesh perché non sono un creato fisico yesh meain è quando si parla di bria di creazione di chilim di cose materiali e come è insof che il nostro pensiero non può veramente capirlo è inutile starci a provare a grattare non possiamo capirlo veramente perché i nostri chilim sono dei chilim finiti noi abbiamo degli strumenti finiti e anche dentro di noi abbiamo delle sefirot finite che non possono capire l'infinito e così dice il mio volto non lo vedrete non possiamo vedere il volto perché è qualcosa che noi non possiamo non possiamo capire a nessun tipo di livello neanche il mio volto ovvero quando si parla di cos'è il volto la prima di la prima emana già nel mondo della seduta nella parte più esterna di nevoa di mosher beno alla shalom quindi anche Mosher arriva fino a un certo punto nel mondo della seduta e la sua nevoa ma non di più perché di più è qualcosa che noi non possiamo neanche cogliere neanche Mosher beno è riuscito ad arrivare posto che è il più grande profeta di tutti i tempi quindi la Torah che Mosher beno ci ha passato la Torah che comincia deve essere veicolata perché altrimenti noi non potremmo neanche capire di cosa stiamo parlando sarebbe troppo troppo astratto non avremmo perché la Torah la Torah la Torah è la e la mitzvot sono la volontà di quindi la Torah in qualche modo nelle mitzvot sintetizza l'infinito di in questo manto materiale l'evoluzione quindi alul quando parla di alul si parla di causa effetto di evoluzione è circondata da ilà la sua causa e quindi si autonullifica così come il sole dentro il sole si non 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 il sole si annulla dentro il sole dice l'admurata Ken quindi c'è un certo livello di nullificazione a un livello quando si parla di un livello estremamente alto di spiritualità quando parliamo di pardes di Moshe cordovero che anche delle contrazioni molto molto forti molto grandi lo io ilu liot geshe a che a far non portare anche una contrazione estrema a tutto l'infinito spirituale non porta però qualcosa di percepibile in questo mondo materiale i due mondi le due cose non si toccano e questo anche gli angeli anche gli angeli non hanno una dimensione materiale rimangono nella dimensione spirituale per questo quando Moshe Rabbe sale su Arsina e gli angeli cominciano a lamentarsi che Hashem dalla Torah al popolo ebraico in questo mondo materiale Moshe gli risponde ma non avete la materialità come fate a fare le mitzvot senza materialità non c'è una dimensione materiale nel mondo degli angeli sono angeli del mondo d'Aietzira sono angeli nel mondo della Bria ma non sono ma non sono non hanno la materialità che abbiamo noi e quindi non hanno neanche la difficoltà che abbiamo noi tra parentesi benché da da una forma però di una forma spirituale e anche il ruach lo spirito divino di un animale viene dalla faccia celeste del bue ci sono queste facce celeste del carro celeste da cui nasce deriva la spiritualità del bue ma non il corpo ci dice quindi lo spirito vitale del bue dell'animale nasce dal viso di questo viso di bue nei mondi spirituali ma questo è il ruach la vitalità dell'animale non il corpo dell'animale il corpo dell'animale nasce in questo mondo materiale e finisce qua la porzione di oggi che è estremamente complessa si 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 evince da questa lettera che è una lettera che postuma in tempo temporale ai vari capitoli che abbiamo studiato in Tania precedentemente in cui la dimora zaken pone ancora di più l'accento in due componenti di creazione il componente che è creazione ex nilo dal niente che è questo mondo materiale e la parte invece di conseguenza causa e effetto e l'admora zaken ci dice ancora una volta che due mondi spirituali materiali hanno la stessa identica presenza divina c'è un crea ed è unico con tutto i due mondi in teoria non si incontrano ed è questa la grandezza del popolo ebraico che avendo dentro di sé una scintilla divina che non fa parte del creato ma fa parte del croce rupu riusciamo a essere partner nella insieme le due cose e quindi c'è bisogno di me che arrivo e faccio la barachà sulla mia acqua c'è bisogno di me che arrivo e faccio la barachà sulle trog e c'è bisogno di me che rispetto shabbat faccio tzeraqah o mi comporto o faccio tzeraqah qualsiasi sia la mitzvah o kibudorim visitare i malati qualsiasi sia la mitzvah c'è bisogno che io faccia la mitzvah materialmente in modo e cominciamo a capire che cosa vuol dire che c'è l'opportunità di essere partner nella creazione perché il nostro lavoro è quello di farlo di rabat aktonim di mettere insieme questi due componenti una creazione ex nilo materiale una creazione ex nilo spirituale con tutte le loro derivazioni attraverso le sefirot arriviamo noi e dobbiamo mettere insieme due mondi ed è per questo che quanto più studiamo queste lettere quanto più poniamo l'accento sull'importanza delle mitzvot materiali dove ogni cosa è importante il nostro corpo è importante la nostra salute mentale è importante il nostro benessere materiale è importante in modo che noi possiamo fare le mitzvot nella nostra generazione ci viene chiesto di fare le mitzvot belle quindi si investe in un bel shabbat e lo dico principalmente a me fare le mitzvot con con bellezza perché viviamo in un periodo in cui possiamo farlo quindi più possiamo farlo più abbiamo l'opportunità di fare le mitzvot in piccolo ma farlo in grande e quanto più ci riconnettiamo con l'infinito che si mette nel finito tutto questo per dare a noi l'opportunità di fare a noi la nostra parte quindi noi noi possiamo fare per le persone che sono mancate e noi facciamo salire le neshamot perché noi quando studiamo la Torah dei nostri maestri facciamo salire la neshamot continua a salire non si ferma mai che a un certo punto dire quando avviene la rivelazione della or di questa luce infinita che non fa parte del creato allora tutti vorranno ritornare in questo corpo materiale avremo c'è nescai la geolat ma ti per ascelema che possiamo meritare la geolat finale ognuno nella sua individualità ognuno nella sua dimensione personale capire quanto tra virgoletta ha bisogno di noi e ci fa fiducia ogni giorno e ci dà delle forze in quanto noi possiamo veramente cambiare la mezziut la non l'essenza della materialità ma come si vede la materialità in questo mondo materiale e di sfruttare ogni occasione per fare una crescita spirituale possiamo avere coraggio possiamo avere forza e possiamo avere chiarezza di pensiero di come fare che sono che sono la sua volontà che è la mia volontà possiamo essere sigillati in un anno dolcissimo possiamo brillare nella nostra luce ognuno della sua per poter fare appieno la nostra circut raggiungere tutti i nostri obiettivi veramente fare quel che si aspetta da noi anche di più e così quando si dice si fa non facciamo teshuvah completa automaticamente entriamo in un mondo di gheulah così che sia per tutti ora adesso che possiamo meritare veramente di festeggiare la venuta del Mashiach e capire il nostro valore quanto siamo importanti non buttarci giù di di così come sempre questo l'imodo alla la per minona che lassegara oggi stato lassegara il dalle di tishrei la mia mora nechal bat schmuel chai adina barang gharachel sara bat iosef david ben iosef yitzchak ben yosef che le vissorot tovot mamas e vair mosh le ma le col chole ham stai grazie